Ciao, sono Carlo Pasqualetto, premiata da Startup Italia come una delle 100 migliori startup del 2020. Il 14 di aprile passeremo due ore per approfondire i temi della Smart Factory e del Business Model Servitization, due paradigmi estremamente, come vedremo, collegati tra di loro. Partiremo dalla Smart Factory, la fabbrica intelligente. Vedremo cosa significa fabbrica intelligente, perché ha senso investire in un paradigma produttivo più evoluto. Capiremo come connettere i nostri cespiti produttivi al web, a internet e capiremo come acquisire informazioni che ci permetteranno un miglioramento continuo dei nostri processi produttivi. Infine andremo anche ad analizzare tutti i benefici fiscali che l'ultima politica transizione 4.0 possono portare alla volontà di un imprenditore di investire in questo percorso di trasformazione. Una volta analizzata la fabbrica intelligente passeremo alla servitizzazione, alla Business Model Servitization, un cambio anche questo estremamente profondo, culturale e di concetto di come poter offrire un nuovo modello di business ai nostri clienti utilizzando le opportunità del digitale. Capiremo che la fabbrica intelligente è abilitante a un modello di business basato sul servizio e vedremo come la tecnologia inserita all'interno del nostro stabilimento produttivo possa portare umanizzazione e democratizzazione del dato. Noi crediamo che la tecnologia umanizzi e quindi vedremo come riuscire a trasportare tutta la nostra organizzazione verso un nuovo livello in maniera concreta, pragmatica e sempre suffragata e sostenuta da esempi concreti, non quelli della California ma quelli qua del Veneto e del nostro territorio. Vi aspetto, ci vediamo il 14 aprile.